io scatto poi vedo come viene se questo è l'approccio alla fotografia tipico del principiante vedere un soggetto interessante puntare e scattare magari per pura combinazione l'inquadratura funziona e grazie agli automatismi della macchina esposizione e messa a fuoco sono accettabili ma il metodo è sbagliato perché porterà sempre a risultati casuali belli o brutti che siano l'approccio giusto è un altro e presuppone la capacità di previsualizzare cioè di immaginare il risultato finale unita alla competenza necessaria a ottenere con i mezzi a disposizione esattamente quel risultato una competenza non solo tecnica ma anche estetica e compositiva per acquisirla occorre lavorare su due fronti da un lato impadronirsi delle conoscenze necessarie a utilizzare senza errori e senza incertezze i propri strumenti di lavoro e questo significa studiare e approfondire i principi che stanno alla base della gestione della luce dell'esposizione e del controllo della nitidezza ma significa anche fase che il principiante tende a trascurare leggere con attenzione i manuali d'uso delle proprie attrezzature per poterle padroneggiare senza ogni volta chiedersi quale pulsante schiacciare o quale rotellina girare dall'altro lato è necessario affinare il proprio gusto estetico e le proprie capacità compositive non solo consultando tutorial e manuali sull'argomento ma anche anzi soprattutto frequentando le mostre studiando le fotografie dei maestri contemporanei osservando quelle stampate sulle riviste più prestigiose compresa la pubblicità per capire che cosa chiede oggi il mercato e quali sono le tendenze attuali nel mondo dell'immagine senza dimenticare la storia dell'arte e non possiamo ignorare che la fotografia è figlia della pittura e che fotografare con competenza significa capire e interiorizzare l'evoluzione culturale che nel corso dei secoli ci ha portati fino a qui quando faccio esercitazioni sul campo la frase che ripeto più spesso ai miei allievi alle prime armi ma anche a quelli che si credono più esperti è fermati ragiona perciò se vuoi iniziare a fotografare come si deve ecco alcuni punti da considerare prima di fare clic prima di tutto perché vuoi scattare quella fotografia forse perché vuoi portare a casa il ricordo di un momento piacevole attenzione perché ci sono cose che la fotografia non è in grado di comunicare il profumo dell'aria il canto degli uccelli la compagnia simpatica insomma le sensazioni trasmesse dall'ambiente o dalle persone concentrati solo su quello che vedi e chiediti se è sufficiente a esprimere le emozioni che hai provato in quel momento in caso affermativo prima di portare l'occhio al mirino osserva il soggetto con attenzione come illuminato sei sicuro che la direzione l'intensità e il colore della luce lo mettano in risalto e ne modellino le forme come tu vuoi la luce naturale è una variabile indipendente questo vuol dire che tu non la puoi controllare perciò devi prestare attenzione a come il soggetto è illuminato girargli intorno alla ricerca del taglio più adeguato e talvolta rinunciare alla fotografia e tornare sul posto in un altro momento se ritieni che la luce non sia quella giusta a questo punto osserva lo sfondo cioè tutto ciò che circonda il soggetto gli elementi presenti nella scena aiutano a metterlo in risalto ci sono ad esempio linee prospettiche o altri elementi grafici in grado di indirizzare su di esso l'attenzione di chi guarderà la foto se sì studia come inquadrare in modo da esaltare quegli elementi e la loro funzione narrativa se invece lo sfondo non facilita la lettura del soggetto o peggio se contiene particolari che possano attrarre l'attenzione dello spettatore distraendolo dal principale punto di interesse allora devi intervenire eliminando quegli elementi inutili o addirittura se necessario elimina l'intero sfondo puoi farlo in tre modi usando la luce usando l'inquadratura usando la profondità di campo se vuoi eliminare lo sfondo usando la luce fai in modo che il soggetto illuminato si stagli contro uno sfondo scuro se la luce disponibile non ti permette di ottenere questo usa una luce tua il flash e la soluzione ideale perché lo puoi dosare e direzionare a tuo piacimento se il soggetto è sufficientemente vicino impara a usare il flash e a sfruttarne le potenzialità anche in luce diurna anche in sole pieno e lui diventerà il tuo sole portatile molti fotografi anche professionisti dichiarano di non amare il flash e la sua luce ma è solo perché non hanno imparato a usarlo nel modo corretto per giusta inquadratura si intende la scelta oculata non soltanto dell'angolo di ripresa ma anche della giusta focale quella che ti permetterà di isolare il soggetto che deve riempire lo spazio del fotogramma la scelta se usare un grandangolo o un teleobiettivo non deve essere casuale ma determinata dallo studio del soggetto e dai suoi rapporti con lo sfondo usando un diaframma aperto ed effettuando una messa a fuoco di precisione sul soggetto potrà isolarlo dallo sfondo che così apparirà sfocato e indistinto in modo che lo spettatore non ne venga distratto questa si chiama messa a fuoco selettiva perché permette di selezionare il campo di profondità focale in altre parole di decidere cosa deve apparire nitido e cosa no in questo modo chi guarda la foto saprà senza possibilità di dubbio dove guardare individuerà immediatamente il centro di interesse della scena essendo questo l'unico elemento a fuoco occhio al tempo di otturazione se lavori a mano libera il mosso ma soprattutto il più subdolo micro mosso è sempre in agguato la fotografia digitale ha azzerato il vecchio concetto di tempo di sicurezza non esiste un tempo di sicurezza a volte basta ingrandire di poco il file per capire che si possono ottenere immagini mosse anche a un duecentesimo di secondo un fenomeno che con la pellicola era meno avvertibile ma nel digitale è diventato drammatico dato che l'immagine digitale viene giudicata visualizzandola al 100 per cento sul monitor del computer l'uso di sensori ad alta risoluzione aggrava il rischio perché lo spostamento angolare anche se minimo coinvolge un numero di pixel maggiore di quanto farebbe su un sensore meno denso potresti aumentare il valore iso per garantirti tempi più rapidi ma in questo modo aumenteresti anche il rumore elettronico che a seconda del sensore che usi potrebbe compromettere la godibilità della fotografia preferibilmente lavora il valore iso nativo del sensore e assicura la macchina al treppiede in mancanza di questo cerca un appoggio stabile un muretto una roccia un ramo un davanzale sul quale posare la macchina non avere paura delle posizioni scomode spesso sono proprio queste a garantire i risultati migliori cura la composizione in modo da ricercare sempre l'armonia delle forme e delle linee il rettangolo aureo l'incrocio dei terzi che ne costituisce la semplificazione aiutano a comporre in modo corretto ma non sono una regola inderogabile la creatività e la fantasia sono più importanti delle regole che vanno apprese interiorizzate ma poi se necessario superate piccolo suggerimento se nell'inquadratura ci sono linee oblique falle partire dall'angolo inferiore destro o sinistro del fotogramma in questo modo creerai una prospettiva efficace e darai forza alla composizione la fotografia digitale non è come le diapositive a colori lì dopo lo scatto il lavoro è finito e quel che viene viene ma è più simile alla fotografia fine art in bianco e nero dove ripresa sviluppo e stampa sono altrettanti anelli di un'unica catena volta a ottenere un risultato accuratamente previsto e programmato per questo la fotografia digitale non può prescindere dalla fase del trattamento o post produzione che trasformerà un insieme di segnali elettrici nell'immagine mentale che il fotografo aveva visualizzato al momento della ripresa se vuoi lavorare seriamente in digitale devi perciò impadronirti delle conoscenze teoriche e pratiche che stanno alla base del trattamento dell'immagine nonché degli strumenti più adatti a soddisfare le tue esigenze scegli il software che ti permette di controllare al meglio i parametri che consideri importanti non quello disponibile gratuitamente se non pensi che per progredire sia anche necessario investire strumenti e procedure resterai sempre un principiante dopo che avrai ottenuto i primi successi non pensare di essere arrivato e di poterti ritenere un esperto la fotografia è una disciplina in continua evoluzione non solo tecnica e nessuno neppure il professionista più affermato può rinunciare a uno studio instancabile a un aggiornamento continuo a un lavoro serio e metodico per questo oltre che investire in strumenti e procedure come abbiamo detto prima è indispensabile investire in conoscenza è inutile acquistare un obiettivo in più se non si sono interiorizzati i concetti di base iscriviti a un corso di fotografia ma accertati che sia tenuto da formatori qualificati e con una certificata esperienza didattica oppure o anche chiedi a un professionista di poterlo affiancare durante il suo lavoro vedere come lavora un esperto sbirciare nelle sue procedure operative spiare e copiare i suoi metodi è il sistema migliore per chiarirsi i dubbi e acquisire competenza se riuscirai a interiorizzare a mettere in pratica questi suggerimenti allora sarai sulla strada giusta una strada non facile priva di scorciatoie ma capace di renderti padrone della tua creatività buon lavoro ma soprattutto buon divertimento grazie a tutti Grazie per la visione!